Buonasera a tutti, iniziamo questo Consiglio Comunale, il Segretario Generale fa l'appello, prego. Lodi, Fortini, Cariani, Garuti, Conti, Mattioli, Zappaterra, Dinelli, Testoni, Tassinari, Carlotti, Corvini, Tosselli, Galuppi, Pareschi, Magagna, Mattarelli, partecipano gli Assessori Manderioli, Busi, Tassinari, Larolfini, Chi è adesso? Allora, nominiamo gli Iscrutatori nelle persone Consiglieri Mattioli, Testoni e Mattarelli. L'inno, prego. L'inno, prego. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, iniziamo questo Consiglio Comunale con le comunicazioni del Sindaco. Prego, signor Sindaco. Sì, ho una prima comunicazione, poi abbiamo un momento a cui teniamo tutti, immagino particolarmente, che è quello di una piccola premiazione per una persona che ha portato alti i colori della nostra città. Ma verrò su questo tra pochissimo assieme all'assessore Tassinari. La prima comunicazione che credo sia doverosa, intanto giustifico un po' di consiglieri comunali, ma abbiamo cambiato giorno e abbiamo scoperto sul campo che il lunedì il lavoro è un po' più pressante, però un po' di gente so che è in arrivo. La prima comunicazione che devo dare, la do con soddisfazione ma anche con un pochino di emozione, è che questo è l'ultimo Consiglio Comunale che faremo in questa sala. Assieme al Presidente, già da domani verificheremo l'allestimento della nuova sala consigliare temporanea che è presso il Palazzo del Governatore. Come sapete, a fine di ottobre ci sarà il trasloco degli uffici comunali dell'Assessorato della Cultura, della Fondazione Teatro, presso quelli che sono attualmente ospitati qui. Lo IAT presso il Palazzo del Governatore, finalmente recuperato dopo il terremoto, è di fatto un ritorno a casa, anche se non è ancora l'ultimo trasloco dell'Assemblea Cittadina, ma rientra in un edificio di proprietà dei Centesi, quindi torna a casa sua, il Consiglio Comunale torna in un edificio che appartiene alla nostra città. Cogliamo l'occasione per ridare a nuova vita la sala mansarda del Palazzo stesso, che è una sala storicamente poco utilizzata e che con questa riapertura, siamo certi, diventerà più centrale. Sposteremo fisicamente ancora una volta gli scranni su cui voi consiglieri siete e anche noi, tavolo di presidenza, siamo seduti e sarà un trasloco che ci accompagnerà con più tranquillità sino alla conclusione dei lavori di recupero del municipio vero e proprio, dove finalmente questi scranni, che non hanno mai girato tanto come da dopo il terremoto, potranno essere trasportati per l'ultima volta non appena quel cantiere così grosso, così costoso, così delicato, potrà essere completato. Colgo l'occasione per dire che, come i signori consiglieri sanno probabilmente già, scusatemi, il Palazzo del Governatore non verrà riportato solo alla situazione ante terremoto, si coglie l'occasione per apportare alcune migliorie all'edificio, una in particolare riguarda proprio la sala mansarda, perché i centesi, i frequentatori del Palazzo del Governatore, sanno sicuramente che quella sala, dopo l'intervento di riqualificazione firmato dall'ingegner Zari, che poi ha dato il suo nome alla sala sottostante la mansarda, dicevo che quei lavori hanno consegnato un edificio molto bello, ma con un limite di progettazione legato alla volontà dell'epoca di un recupero filologico molto rigido, perché la pavimentazione della mansarda era costituita da un assito di legno senza alcun materiale isolante e quindi non c'era nessuna coibentazione acustica tra la mansarda e la sottostante sala Zarri, sala rossa. Questo dava un problema assoluto perché le due sale non erano utilizzabili contemporaneamente e questo di fatto aveva reso praticamente marginale la mansarda, dando invece priorità alla sala Zarri. Questo è un limite a cui oggi diamo rimedio, senza per questo stravolgere la conformazione e quindi nel massimo rispetto dell'immobile, perché all'assito di legno originario viene aggiunto uno strato di materiale isolante e una seconda copertura identica alla prima, il che consentirà di creare un pacchetto di isolamento acustico che ci darà modo di utilizzare le due sale in maniera disgiunta e contemporanea. La seconda miglioria che in qualche modo impreziosisce anche questa parte di lavoro riguarda l'ascensore. Ancora una volta tutti i frequentatori del palazzo sanno bene che l'ascensore della porta principale del palazzo aveva un limite di utilizzo, cioè veniva tenuto quasi sempre disattivato perché la porta al piano della Galleria d'Arte Moderna entrava direttamente nella galleria e sarebbe stata una forte tentazione per qualche malintenzionato che poteva entrare in galleria a scegliere liberamente di quale opera arricchire la propria parete domestica e poi ridiscendere senza intercettare gli uffici comunali. Con l'intervento di recupero è stata realizzata un'ulteriore parete che isola il vano ascensore dalla galleria e quindi consente di portare l'ascensore al servizio degli uffici ma anche disgiuntamente in occasione delle giornate di apertura della Galleria d'Arte Moderna in funzione della galleria stessa. È un intervento che va nella direzione di rendere il palazzo il più fruibile possibile perché è vero che un secondo ascensore è sempre esistito ma era nell'angolo accanto alla gelateria e in genere capitava che chi aveva qualche ridotta capacità di motoria desisteva dalle due rampe e magari non saliva in sala rossa. In questo modo il palazzo sarà completamente reso fruibile. L'occasione dunque è per un'inaugurazione che sarà abbastanza sobria ma che probabilmente avverrà il 4 di novembre, giornata peraltro di festa nazionale, la festa nazionale delle forze armate, completato il percorso del corteo del 4 novembre con le autorità civili e militari, si radunerà in piazza e il palazzo a quel punto sarà aperto per la fruizione di chi vorrà vedere com'è venuto l'intervento. Per quella giornata sarà completamente libera dal cantiere del palazzo del governatore la nostra splendida piazza del Guercino con la sola eccezione del ponteggio che oggi copre la torre dell'orologio del palazzo stesso che rimarrà ancora qualche settimana, l'impresa dice al massimo tre perché con i ribassi d'asta e un po' di economie nella lavorazione si è riusciti a recuperare un po' di risorse per un intervento ulteriore di restauro della parte più alta della torretta che ospita l'orologio che non era previsto nei lavori del progetto originario perché non si pensava potesse rientrare nell'importo. Un po' con la disponibilità dell'impresa, un po' per l'andamento del mercato del settore si riesce a fare anche quest'ulteriore intervento quindi l'attore dell'orologio dovrà attendere ancora qualche settimana ma poi potremo tornare a sentire il nostro orologio battere le ore e rivedremo il palazzo del governatore in una condizione come non si ricorda. Giustamente l'assessore mi segnala l'ultima novità di cui il pubblico potrà rendersi conto in maniera ancora più compiuta con l'inaugurazione della grande mostra dedicata da Roldo Bonzani di un mese più tardi è il grande aumento dello spazio espositivo della nostra galleria d'arte moderna che potrà finalmente dare più compiuta esposizione ai tanti capolavori che abbiamo di Bonzani e non solo, dell'intera scuola, dei suoi cosiddetti amici ma anche ospitare le raccolte di incisioni, di disegni, le tante riviste di Bonzani e anche avere uno spazio per esposizioni temporanee di cui la nostra città è storicamente abbastanza priva quindi sarà un'occasione per dare alla città non solo un palazzo utile e funzionale perché ci saranno i nostri uffici della cultura non solo una nuova casa per la sala di tutti, per la sala consigliare ma anche uno spazio d'arte spazio d'arte che mi dà il destro in maniera magistrale per la seconda comunicazione che ci fa particolarmente piacere sono certo che presto questo spazio d'arte potrà ospitare qualcosa realizzato da Federica Cipriani artista centese vincitrice del concorso Giovani Talenti per Ferrara premio Michelangelo Antonioni edizione 2015 concorso di arti visive dedicato appunto a Michelangelo Antonioni è una centese, si è fatta onore non lontanissimo da qui ma in una competizione di livello molto alto e quindi la invito a raggiungerci per raccontarci un po' di sé poco, perché non l'abbiamo preavvertita per nulla e per ricevere i complimenti dell'intero consiglio comunale per suo tramite della città ci racconta come si fa a realizzare un risultato così importante qual è la sua forma espressiva rapidamente, tanto noi non siamo critici allora io faccio pannelli decorativi, quadri li faccio in maniera un po' alternativa dalle solite tecniche non uso pennelli ma praticamente partendo da una ricerca che è quella dell'armonia costruisco con delle sagome di carta su dei chiodi delle strutture che praticamente è una forma artistica diciamo alternativa è difficile da spiegare perché sono un po' complesse sono stata molto onorata di ricevere questo premio e altrettanto il riconoscimento dalla città spero ci sarà modo di esporre anche in città quindi ringrazio no, siamo noi che ringraziamo il piccolo gesto il piccolo segno è una medaglia che raffigura Guercino un altro artista, un collega che però ha avuto un po' di fortuna in giro per il mondo ma stiamo parlando di una persona molto giovane che ci darà ancora soddisfazioni te lo consegneremo è finito il consiglio perché purtroppo dobbiamo un po' un pochino correre ma se devi andare invece puoi andare tranquillamente e te la facciamo avere quello che per noi è importante è che per il tramite dell'assessorato alla cultura si crei questo rapporto perché possiamo toglierci la curiosità di come sono queste opere che sono probabilmente più facili da vedere da apprezzare che da raccontare quindi davvero ancora complimentissimi grazie applausi 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 allora ah la teniamo qui e la diamo adesso mettere pul dai mandiamo il sindaco adesso così sospendiamo 5 minuti diamo la possibilità anche ai ritardatari di venire perché almeno abbiamo il consiglio e tutti i crismi per poter operare sì ma non siamo noi siamo 8 allora siamo già 2 secondi perché c'è una macchina ma no 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 sì sì fanno un po' perché l'altro perché c'è la presa la metà lei consigliera segna no 8 più non c'è sì l'uomo per poter operare l'uomo no 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 l'uomo Grazie. 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 Devo dire che ringrazio innanzitutto Amnesty International con cui abbiamo collaborato per presentare questo ordine del giorno che ritengo che a prescindere dagli impegni a rispettare gli obblighi internazionali che assunti dal nostro Paese già oramai oltre 25 anni fa, ci sia anche un dovere morale e civile per cui debba essere introdotto il reato della tortura nel nostro Paese. Ci sono dei disegni di legge già stati approvati al Senato ma fermi alla Camera e viceversa. Io spero che con questo ordine del giorno approvato non solo dal nostro Comune ma in tanti comuni d'Italia e con le migliaia di firme che sta raccogliendo Amnesty International che presenterà poi il 10 di dicembre al Presidente del Consiglio, al Presidente della Camera e al Presidente del Senato, si possa finalmente arrivare ad una conclusione positiva di questo iter che oramai sta diventando quasi ridicolo. Leggo quindi l'ordine del giorno presentato. Premesso che il 10 dicembre 1984 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato e aperto alla firma e alla ratifica degli Stati la Convenzione contro la Tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti. Che il 12 gennaio 1989, ormai oltre 25 anni fa, l'Italia ha depositato il proprio strumento di ratifica di tale Convenzione, previa approvazione del Parlamento della legge numero 498 del 3 novembre 1988 di ratifica ed esecuzione. E così facendo si è impegnata a rispettare gli obblighi internazionali in essi previsti. Che l'articolo 4 della Convenzione contro la Tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, prevede al primo comma che ogni Stato parte assicura che tutti gli atti di tortura costituiscano reato ai sensi della sua legge penale e al secondo comma che ogni Stato parte punisse questi reati con pene appropriate che tengano conto della loro gravità. che diversi organi di controllo del rispetto dei diritti umani del Sistema delle Nazioni Unite, dal Comitato dei diritti umani al Comitato contro la Tortura fino al Comitato dei diritti del Fanciullo, hanno ripetutamente invitato il nostro Paese a introdurre nel codice penale uno specifico reato di tortura, in vista del pieno adempimento di tali obblighi, ultimo il Consiglio diritti umani in occasione della seconda revisione periodico universale dell'Italia, reiterando le raccomandazioni del primo ciclo. Che analogo invito è pervenuto da organi del Consiglio d'Europa, quale il Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Che i governi italiani, succedutisi negli anni da due decenni, allo scopo di rassicurare la comunità internazionale, hanno riferito dei progressi compiuti in Parlamento in vista della tempestiva introduzione di un reato specifico di tortura nel nostro ordinamento giuridico, ma che tale rassicurazione, tuttavia, visto il trascorrere del tempo, non sono ormai idonee a produrre gli effetti desiderati. Che numerose organizzazioni della società civile, tra cui appunto Amnesty International, chiedono da tempo e con insistenza all'Italia di onorare l'impegno internazionale assunto e di introdurre un reato specifico di tortura nel proprio ordinamento. Che l'Italia è parte della Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali dal 1950, la quale riconosce, all'articolo 2, il diritto inderogabile a non subire torture o altri trattamenti o punizioni inumani o degradanti, e che tale norma, secondo la giurisprudenza consolidata dalla Corte di Strasburgo, implica l'obbligo, ogni volta che si sia in presenza di segnalazioni di tortura, di svolgere indagini idonee a consentire l'individuazione dei responsabili, la riparazione dei danni e la punizione adeguata dei colpevoli. Che con sentenza nel caso Cestaro contro l'Italia del 7 aprile 2015, la Corte europea dei diritti umani ha accertato una violazione dell'articolo 3, CEDU, da parte del nostro Paese a causa delle torture inflitte nel 2001 nell'ambito dell'irruzione avvenuta nella scuola Dias in occasione del G8 di Genova e, altresì, a causa della violazione strutturale consistente nell'inadeguatessa del nostro sistema penale a consentire la giusta punizione dei colpevoli di quelle torture. Che diverse sentenze interne di primo grado d'appello e della Corte di Cassazione, relative anche a episodi diversi da quelli avvenuti nel contesto dei fatti di Genova del 2001, attribuiscono espressamente all'assenza di un reato specifico di tortura l'impossibilità di sanzionare adeguatamente episodi descritti dagli stessi giudici come tortura, ma non qualificati come tali per mancanza appunto di una fattispecie di riferimento. Che l'assenza di una fattispecie specifica di tortura ha determinato, oltresì il rigetto di richieste di estradizione da parte di altri Stati e, di conseguenza, l'impossibilità per l'Italia di collaborare all'accertamento e alla punizione dei delitti di lesa umanità commessi nel contesto di regimi dettatoriali nel recente passato. Che il Parlamento italiano discute svariate proposte di introdurre il reato specifico di tortura da almeno cinque legislature, senza mai riuscire a completare il relativo ITER e ad approvare definitivamente un testo di legge. Che nel corso di questa legislatura il tema è stato discusso dal Senato, quindi dalla Camera, ed ora di nuovo in discussione al Senato, e che vi è non di meno una giustificata preoccupazione che neppure questa volta si riesca a giungere ad approvare l'introduzione di un reato specifico di tortura entro la fine della legislatura. Considerato che il Comune di Cento condanno ogni forma di tortura in quanto grave violazione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, invita il Sindaco e la Giunta a far pervenire al Parlamento l'auspicio di questo Consiglio a considerare la questione dell'introduzione di un reato specifico di tortura nell'ordinamento italiano come una questione della massima urgenza, a completare entro tempi ragionevoli la relativa discussione su un tema ormai maturo per una decisione e da porre fine, approvando una legge a una situazione che, oltre a mettere il nostro Paese in profondo imbarasso sul piano internazionale, comporta la conseguenza inaccettabile della mancata punizione, con pene adeguate alla gravità dei fatti, di coloro che si rendono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Grazie. Grazie, Consigliere Mattioli. Ci sono interventi? Consigliere Capogruppo Mattarelli, prego. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Il tema che ci troviamo ad affrontare, che vedrà il mio voto favorevole ovviamente, ma con le seguenti specificazioni, è un tema spinoso anche perché giustamente fa rilevare e rileva che questa sventurata nazione ancora non ha una legge che punisse il reato di tortura. E considerato che siamo dall'84 sotto esame per questa materia, 31 anni, quasi ormai 32, direi che siamo stati sonoramente bocciati, sia come nazione, sia come cittadini, noi stessi, ognuno di noi è responsabile di questo disastro, non solo i governi che si sono succeduti. E vi spiego perché, dal mio punto di vista, siamo tutti responsabili di questa imbarazzante posizione dell'Italia, che non è solo imbarazzante per il reato di tortura, che è ovviamente quello che più teme, fa temere il bipede umano, e cioè la tortura fisica. Quella che, come tutti i viventi temono, è il dolore fisico. Essere sottoposti a dei maltrattamenti di natura fisica fa paura a tutti. E la tortura è indicata, normalmente, nei testi di diritto penale internazionale, come la tortura fisica. cioè quella che sottopone l'uomo al male, di natura varia. Possiamo leggerlo anche nei manuali, cos'è indicato come tortura fisica. È inutile voler fare gli scienziati su questo argomento. Ma io ritengo che questa ordine del giorno, che, ripeto, approverò, sia limitativo, perché si riferisce alla semplice tortura, ripeto, fisica. La tortura che incide di più sulla natura dell'uomo è quella psicologica. Quella che ti porti dentro anche perché non la puoi ovviare in nessun modo. Alla tortura fisica uno dirà, sì, me la porto dentro tutta la vita. Ma bene o male, se sopravvivi, il fisico recupera. La tortura psicologica, che tu ti porti dentro, che può essere anche non abbinata a una tortura fisica, che può anche essere non abbinata a una tortura fisica, è molto più dannosa e incide sulla tua psiche per tutta la vita. Lo sanno bene i pedagoghi, gli psichiatri, gli psicologi e tutti gli specialisti del caso. Per me, che ritengo essere ancora uno che ha il pallino di essere definito liberale, è tortura anche un elenco di cose che in questa nazione sono regolari tutti i giorni. Per me è una tortura che in Italia ci siano dei processi ingiusti. È una tortura che durano generazioni. È una tortura che ci siano delle accuse infondate dalle quali bisogna difendersi e chi non ha i soldi per potersi difendere è spacciato. È una tortura che ci sia la corruzione fra le nazioni occidentali e nelle classifiche più alte. È una tortura che ci sia la mafia e che venga considerata come sistema e che sia ancora considerata pericolosa. È una tortura che ci siano le massonerie, cioè coloro i quali che dicono che fanno del bene ma lo fanno con dei capucci in testa. Io ritengo, adesso, casomai qualcuno ha proprio perché si sentirà sotto questa registrazione ingiustamente accusato, ci querellerà. È una tortura che ci sia la possibilità di querelare per esprimere un'opinione come quella che viene oggi definito la querella per diffamazione mezzo stampa e qualcuno che venga poi, che sia costretto a difendersi in un tribunale. E, per fortuna oggi, questa sventurata Repubblica ha assolto uno scrittore dall'accusa di induzione al terrorismo perché diceva ai notav di non... di anche di... era possibile danneggiare. Ecco, per fortuna è stato assolto. Tutto questo è tortura. È tortura in uno Stato liberale in cui l'individuo è al centro del pensiero liberale che sia costretto a difendersi da uno Stato che lo vessa, che lo tortura dal punto di vista anche psicologico sottoponendolo alla impossibilità di difendersi nei processi ingiusti se non ha i soldi per pagare adeguati avvocati che lo tortura perché lo sottopone a una tassazione esagerata in cambio di servizi da terzo mondo e lo tortura perché non è neanche difeso dalle stesse forze dell'ordine che molto spesso, invece, devono difendere il potere costituito. Tutto questo, per me, è una tortura ed è inaccettabile. Ed è ognuno di voi e quindi invito ognuno di noi ed ognuno di voi ad opporsi a questo sistema dittatoriale che noi crediamo di vivere come Stato liberale. Questa è la riflessione che io porto per questo ordine del giorno che comunque, consigliere Mattioli, voterò a favore perché tutto ciò che riguarda il oppressione dell'individuo per me è da combattere. A. A parole B. Con le leggi C. Anche e se si può opponendo la propria vita come gli studenti di Tiananmen ai cari armati cinesi che volevano opprimere la loro libertà. Bene. Capogruppo Pareschi, prego. Grazie, Presidente. Io ho solo due parole. Io dicevo come contestare il diritto delle persone a non essere torturate. È ovvio che nel 2015 nessuno è a favore della tortura. Io dicevo che secondo me visto che la norma vede ormai la fase di completamento del suo iter procedurale oltre ad invitare il Parlamento a considerare la mera questione dell'introduzione di un reato di tortura sollecitare anche il nostro corpo legislativo nella stesura di un testo che dia una chiarissima definizione del reato di tortura affinché tale norma non rappresenti un'arma nelle mani sbagliate. Credo quindi che anche in questa sede sia difficile esprimere un parere finché non verrà definito il perimetro esatto del reato di tortura. Questa sera però per i motivi in premesse citati e cioè che non è possibile nel 2015 non essere dotati di una normativa che regoli il reato di tortura proprio per ovvietà il mio voto sarà favorevole nonostante diciamo le perplessità il fatto di non conoscere esattamente il testo di questa legge che vuole valutato molto attentamente. Grazie. Grazie a lei Capogruppo Pareschi se non consigliere Mattioli Sì grazie Presidente perché vorrei fare alcune precisazioni relativamente agli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto per quanto riguarda il discorso della tortura psichica devo dire al consigliere Mattarelli una piccola precisazione che nell'introduzione all'articolo 1 della convenzione che l'Italia si è impegnata ad attuare per fare questa legge contro il reato della tortura dice precisamente che una tortura designa qualsiasi atto con il quale siano inflitti a persone dolore o sofferenze acute fisiche o psichiche quindi anche da quel punto di vista lì voglio dire c'è il riferimento chiaro anche alla tortura psichica come faceva riferimento lei e anche per quanto riguarda il discorso della della specifica relativa alla tortura ci sono proprio inseriti chiaramente qua quando parla di appunto di dolore o sofferenze acute fisiche o psichiche segnatamente al fine di ottenere da questo da una terza persona informazioni confessioni eccetera eccetera lo dice poi sono elencate chiaramente i tipi di tortura riconosciuti al mondo in questo momento che sono 27 che non sto ad elencare perché a leggerli veramente c'è da rabbrividire perché sono cose che fanno veramente disgusto e quindi non sto nemmeno a farle un esempio però sono elencati tutti i 27 tipi di tortura che sono stati riconosciuti in questi anni in tutte le parti del mondo quindi credo che da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli ammesso comunque che il testo di legge che sarà approvato o che dovrebbe essere approvato in Parlamento recepisca totalmente quella che è la convenzione però ci siamo impegnati ad approvare un reato con questa convenzione quindi ritengo che sarà così quindi credo di essere di avere dato i chiarimenti che devono i consiglieri bene grazie consigliere Mattioli signor sindaco prego pochissimi minuti solo per dire che sono molto contento che il consiglio comunale di Cento oggi prenda posizione lo faccia in maniera chiara non riesco a non fare due dediche morali per questo ordine del giorno la prima proprio in questi giorni si riapre il processo Cucchi abbiamo sentito Ilaria Cucchi chiedere che la legge contro la tortura venga intitolata fratello credo che sarebbe un bel segno per il nostro paese per ricucire un filo di fiducia e dare un segnale di presa di coscienza che qualcosa di grave è capitato e l'altra cosa nella nostra provincia ma anche qui c'è una ricorrenza precisa sono i dieci anni della morte di Federico Aldrovandi credo sia impossibile non votare quest'ordine del giorno e credo sia impossibile non votare quest'ordine del giorno senza pensare anche a queste due giovani vite che non hanno mai potuto raggiungere la pienezza dei loro anni perché è successo qualcosa di strano allora la prima cosa che uno Stato deve fare è togliere ogni ombra e attorno a questa luce attorno a questa chiarezza granitica costruire la fiducia in un'impalcatura democratica equa dalla parte del cittadino quindi voterò con convinzione ringrazio il gruppo consigliare del PD che ha proposto quest'ordine del giorno e mi associo ai ringraziamenti ad Amnesty per quello che quotidianamente fa e per la battaglia di mobilitazione in questo senso e annuncio a nome della Giunta ma direi che è scontato che quanto l'ordine del giorno chiede cioè che faremo di tutto per far arrivare per il tramite ai nostri parlamentari a governo e Parlamento anche la posizione del nostro consiglio comunale sono certo assieme a tante altre municipalità tanti cittadini tante associazioni far sentire chiara questa voce ovviamente tutto ciò che è il nostro potere fare sarà fatto con grande convinzione e parlo per me almeno con una dedica speciale a due ragazzi che hanno sicuramente segnato drammaticamente la storia del nostro paese bene grazie signor sindaco passiamo alle votazioni votiamo chi è favorevole unanimità punto 3 all'ordine del giorno articolo 166 comma 2 decreto legge 267 2000 comunicazione al consiglio sull'utilizzo del fondo di riserva relazione all'assessore competente Busi prego grazie grazie presidente questa è una comunicazione sull'utilizzo del fondo di riserva che è stato di cui è stata stornata la somma di 29.681 euro virgola 42 questo va a finanziare il trasferimento al comune di un trasferimento di 2.353 virgola 91 euro al comune di Ferrara per l'accoglienza donne in difficoltà 7.088 virgola 26 di trasferimento al comune di Ferrara per il progetto intesa e di 20.239 virgola 25 euro al programma di contrasto alle povertà GAFSA quindi alla GAFSA che gestisce per tutti i comuni della nostra associazione intercomunale appunto programmi di contrasto alla povertà per 20.239 euro bene questa è solo una comunicazione quindi passiamo al punto numero 4 all'ordine del giorno ratifica deliberazione assunte d'urgenza dalla giunta comunale numero 189 del 24 settembre 2015 e 195 del 29 settembre 2015 relaziona sempre l'assessore Busi il consiglio non c'è il filo così no speriamo no ecco grazie grazie presidente sono due variazioni al bilancio frutto di deliberazione di giunta comunale che dobbiamo che il consiglio deve ratificare in un caso scusate riguardano la numero 189 riguarda la parte corrente e una quota che riguarda la parte investimenti in sostanza si fa una variazione di 31.023 022 23 euro che sono quindi maggiori entrate dovute a trasferimento statale trasferimento regionale rimborsa spese per utilizzo di immobili comunali rimborsa da cmv energia per srl fitti reali di fabbricati l'insieme fa 31.022 euro mentre in spesa vi sono delle variazioni in negativo e in positivo che potete avere qui nota sono diversi interventi sempre per 31.022 euro come sapete non vi è nessuna nessuna esborsa sono solamente si realizzano degli assestamenti all'interno delle varie poste di bilancio per la parte investimenti anche qui ci sono riduzioni di costi per quanto riguarda le manutenzioni mentre vi è l'acquisto di beni del patrimonio comunale per 10.000 euro l'insieme delle variazioni in negativo e in positivo fa chiaramente zero questa è la numero 189 la numero 195 ha come oggetto Rocca palco e luci 2015 in sostanza si tratta di abbiamo una voce di entrata che è dovuta ad un finanziamento d'opera della Cassa di risparmio di 100 della fondazione Cassa di risparmio come a fondazione Cassa di risparmio Umbre che tramite la fondazione Cassa di risparmio 100 finanzia questo investimento di 80.000 euro che appunto nominato palco e luci perché serve appunto adottare la rocca di un impianto sia di palco che di luci adeguato a tutta una serie di iniziative di carattere culturale oltre a questo vi è anche comprensivo di IVA e di altri interventi accessori come spese tecnico di collaudo eccetera poi casomai gli assessori competenti possono spiegare meglio di me l'intervento a me preme sottolineare che di questi interventi abbiamo anche il parere favorevole da parte del collegio dei revisori quello più in difficoltà sì un chiarimento signor sindaco prego intervengo in sostituzione dell'assessore Tassinari ma come assessore diciamo ai lavori pubblici conosco la vicenda sono due realizzazioni assolutamente importanti che andranno ad impreziosire la fortezza della rocca la prima comporta la realizzazione di un palco nel cortile interno un palco amovibile ma che nelle intenzioni sarà permanente anche perché sia sempre possibile rimuoverlo questo lo dico nella logica della tutela del bene un palco che andrà a sormontare una porzione dell'area archeologica interna alla fortezza quella delle cosiddette cannoniere e che consentirà alla fortezza stessa di essere stabilmente utilizzata per attività di carattere culturale spettacolare credo che sia un intervento straordinariamente suggestivo oltre che molto efficace perché consentirà di realizzare con costi di allestimento a quel punto trascurabili ad esempio una stagione di concertistica piuttosto che di musica jazz all'interno del nostro splendido contenitore culturale quindi è un elemento di arricchimento stabile che rende più versatile e più funzionale il secondo intervento riguarda l'efficientamento della pubblica illuminazione una parte formale formalmente una parte del progetto che come sapete porterà alla completa sostituzione delle luci incandescenza con luci tecnologia LED per tutto il centro storico del capoluogo inizieremo dai portici e proseguiremo con le altre vie in questo caso sostituiremo l'illuminazione incandescenza che proietta la propria luce sulla fortezza della rocca ma in realtà dietro c'è un vero e proprio progetto di illuminazione scenografica che con la forza della tecnologia LED ci consentirà anche di poter giocare con i colori con le suggestioni ovviamente sempre nella totale salvaguardia della bellezza naturale dell'edificio ma ci consentirà ad esempio in determinati momenti storici o in determinate giornate nazionali di accompagnare con la colorazione della fortezza la festa immagino tra poco il 4 novembre se ci fosse già l'impianto è chiaro che il 4 novembre la fortezza potrebbe essere vestita di tricolore così come da anni prima avevamo Amnesty il nostro comune colora di rosso la fortezza per dire con forza il nostro no alla pena di morte tra poco sono la settimana della prevenzione delle malattie al seno e in quel caso viene chiesto di dare il colore rosa a edifici storici questa diciamo questa scelta cromatica di abbinare ai colori i messaggi di carattere generale sta diventando un fenomeno molto forte noi crediamo anche di grande impatto verso il largo pubblico verso la nostra cittadinanza e quindi con una tecnologia versatile come il led sarà possibile addirittura da remoto programmare le luci in modo da creare la tonalità richiesta per il tempo richiesto un'ultima idea è già stata messa a punto ma sono certo che ci perdonerete ce la teniamo ancora un attimo nel cassetto perché sarà un po' la sorpresa della conferenza di presentazione e quello che voglio dire è che questa è un'ulteriore donazione importante da parte delle fondazioni Cassi di Risparmio Umbre per il tramite della nostra fondazione Cassi di Risparmio di Cento una donazione che nell'intenzione del donante vuole regalare al nostro centro storico qualcosa di bello un elemento di qualità e di qualificazione che aiuti il nostro centro storico a dimenticare le tragedie connesse al terremoto è un tassello del più generale programma d'area l'avete sentito in questo consiglio comunale più volte che proprio dalla fortezza della Rocca inizia a dipanarsi per arrivare sino a poco oltre Piazzale Bonzani ecco quell'intero percorso di riqualificazione del nostro centro storico avrà come uno dei capisaldi appunto questa importante realizzazione frutto di una donazione e della generosità Umbra colgo l'occasione per ringraziare davvero le fondazioni che hanno raccolto questa cifra importante e l'hanno destinata alla nostra città grazie sindaco allora interventi capogruppo Mazzarelli prego intervento molto breve anche per chiedere un piccolo chiarimento all'assessore competente al mio stimato collega ministro del bilancio come io amo amo definirlo in merito alla 189 vedo che abbiamo dei versamenti oneri e accessori all'agenzia delle entrate previsti 100 siamo andati a 25 mila euro forse mi è sfuggito forse non l'ho seguito mi piacerebbe capire di che trattasi ovviamente parlo della delibera 189 assunta d'urgenza dalla consiglio dalla giunta comunale nella parte nella parte ovviamente spesa nella parte spesa che sono 25 mila euro per oneri dell'agenzia delle entrate e per la delibera invece 195 pur essendo una donazione che viene dalle fondazioni Umbre per il tramite della nostra fondazione Caricento ci tengo a sottolineare e a invitare quindi il sindaco che è socio di diritto della fondazione in rappresentanza della città a considerare l'importanza del ruolo che egli riveste nell'ambito dell'assemblea dei soci fondazione che non a caso ha voluto il sindaco come rappresentante della città tutta quindi in ambito fondazione che non appartiene a quell'assemblea pur fatta di notabili del vecchio che risalgono l'ottocento ma appartiene alla città e quindi io ritengo che non solo la fondazione Cassa del risparmio di Cento ma le fondazioni siano quello strumento pur nato in un contesto giuridico inefficiente quello che ha inventato il professore Amato negli anni 90 lo strumento che sarà sempre più in futuro utile per lo sviluppo della politica economica e sociale nel territorio dove queste insistono ecco perché è importante occuparsi di quell'argomento essere informati sapere i meccanismi che le governano intervenire a nome della città e portare le istanze della città affinché gli organismi non siano di competenza solo di alcuni individui che potrebbero anche essere portati potrebbero ad utilizzarle per fini non nobili come quelle che sono state destinate all'atto della loro creazione grazie grazie a lei capogruppo mazzarelli interventi bene direi che siamo alla risposta prego assessore grazie 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 presidente no a mattarelli do solo una risposta si tratta di un evidente refuso perché la somma assestata è di 100 euro e quindi 25.000 non non ci sono è stato un errore degli uffici io non ho fatto i conti quindi mi rimasto agli occhi ma meglio guardare più che in l'area si perché uno si concentra sulla variazione e in effetti per quanto riguarda l'importo variato se era 0 più 100 fa 100 mi scuso con il consiglio per questo errore bene mettiamo in votazione allora il punto 4 ratifica deliberazione assunti d'urgenza numero 189 del 24 settembre 2015 195 del 29 settembre 2015 che è favorevole favorevole gruppo PD per le frazioni che è contrario contrario noi che approvato approvato maggioranza immediata esecutività della delibera unanimità punto numero 5 all'ordine del giorno variazione al bilancio di previsione 2015 pluriennale 15-17 in relazione previsionale programmatica trasporto pubblico locale provvedimenti relaziona sempre l'assessore competente cambiamo il filo prego grazie la variazione al bilancio e al pluriennale per quanto riguarda il trasporto pubblico locale locale detto TPL in questo caso c'è già stato un incontro all'assemblea dei soci unitamente all'amministrazione unico di AMI che è l'SRL che gestisce il trasporto pubblico locale nella nostra provincia in questo caso si va ad un'integrazione di quelle che sono le quote per i tre anni che riguardano gli esercizi 2015 2016 2017 sono sempre in parte corrente la variazione nel 2015 di 4.782 euro che in maggiori spese che vengono finanziate da una riduzione di prestazioni professionali per importo analogo per il 2016 di 10.000 euro che viene sempre finanziato tramite il capitolo 4.100 cioè prestazioni professionali d'appalti servizi eccetera e così pure per il 2017 in questo caso appunto non ci sono variazioni per quanto riguarda l'insieme della spesa e rispetto il patto di stabilità quindi sarei per chiedere il parere del Consiglio Comunale Capogruppo Mattarelli prego mi dispiace annoiare ma del resto stasera siamo solo io e il collega Pareschi quindi prima che ci che ci dividiamo un po' il ruolo io voglio solo far notare al consesso che in questa delibera noi abbiamo una tabellina che ci dovrebbe far riflettere in merito a quello che è il contesto in cui approviamo questa delibera che non avrà il mio voto favorevole ovvero sia parliamo di trasporto pubblico locale sappiamo che la AMI Ferrara deve addivenire all'azzeramento dei prossimi due anni del deficit aziendale del bacino per il bacino di Ferrara quindi mantenendo dei aumentando dei contributi dei costi sostanzialmente per una contribuzione di 0,05 al chilometro e una crescita di 0,0 euro al chilometro e prevedere una crescita di 0,01 euro al chilometro di tale contributo sino a pervenire nell'anno 2019 alla misura effettivamente richiesta dalla regione di 0,10 euro al chilometro e praticate negli altri bacini provinciali la contribuzione che il comune di Cento dovrà fornire all'AMI Ferrara è 30.794 euro per il 2015 35.927 per il 2016 41.059 per il 2017 46.192 per il 2018 51.324 per il 2019 ovvero un incremento percentuale 19-15 di circa il 66% da 30.794 a 51.324 io non voglio adesso aprire un'altra polemica una critica e tutto quanto però queste contribuzioni che noi diamo a un'azienda di trasporto provinciale TPL che ci porto un incremento per i prossimi anni di 66% inserita in un contesto che mi sembra imposto dalla regione richiesto dalla regione per arrivare a un contributo di 0,10 euro di 0,10 euro al chilometro e chiedere ai consiglieri comunali quindi al consiglio una votazione in questo senso senza conoscere i bilanci dell'AMI senza vedere come vabbè però questi sono me lo chiarirete adesso no perché da questa delibera evidentemente io non l'ho capita così ritengo che comunque a prescindere da quello che è il bilancio o meno dell'AMI il contributo che noi diamo in 4 anni 5 tenendo conto anche del 15 praticamente aumenta del 66% allora o c'è un bilancio deficitario adesso che ovviamente ci impegniamo a un deficit aziendale che ci si impegna a chiudere e quindi l'azienda funziona in perdita oppure queste cifre qui sono talmente rilevanti parlo dell'incremento non tanto della cifra in quanto tale che io non riesco ancora a capacitarmi come si possa continuare a finanziare dei sistemi in cui si producono sostanzialmente delle distruzioni di valore o dei deficit aziendali se qualcuno me lo spiega io dopo cercherò di farmene un'idea così obiettivamente io non posso che essere leggermente basito dagli incrementi che ci vengono richiesti in quattro anni che sono del 66% prima vediamo se ci sono altri interventi allora diamo la parola al signor sindaco prego intervengo adesso prima che il dibattito si sviluppi in una direzione impropria perché ho appreso dall'intervento del capogruppo Mattarelli che la delibera non è chiara cioè in realtà la delibera è chiara le conferenze servono proprio per chiarirle conferenze capogruppo e quant'altro però a volte si sceglie di fare la domanda direttamente in consiglio per motivazioni che ovviamente sono chiare e anche lecite l'AMI non è un'azienda ancorché sia un SRL l'AMI è uno strumento di concertazione e di coordinamento delle politiche di trasporto pubblico locale l'azienda è Tiper che come è noto a tutti se non altro perché è scritto abbastanza grande sugli autobus è l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nel bacino di Ferrara Bologna e in molti altri bacini di questa regione anche se non in tutti quello che accade è che si è verissimo su questa ragione il capogruppo quando dice quando nota un aumento del 60% perché prima il livello di contribuzione dell'ente pubblico al trasporto pubblico locale era zero cioè quello che sta capitando ma mi verrebbe da dire benvenuto nel 21esimo secolo nel senso che quello che sta capitando su mille altre voci di spesa che non erano storicamente competenza dei comuni è che i comuni vengono a trovarsi di fronte al bivio se accettare la riduzione del servizio perché il mercato non la sostiene più come effetto della recessione come effetto di aumenti di costi come molteplici effetti e lascio questa materia agli economisti di analisi oppure intervenire con risorse dell'ente o in questo caso degli enti perché poi su questo tornerò per garantire il mantenimento quindi la difesa dei servizi per l'utenza intervenendo con risorse dell'ente appunto per integrare quanto il mercato riesce a autogestire sostanzialmente quindi così come è stato ad esempio per le camere mortuari e così come è stato per molti altri servizi storicamente e tipicamente non riconducibili all'ente locale in questo caso i comuni della provincia di Ferrara così come hanno fatto per la verità quasi tutti i comuni comunque questa medesima cosa sta avvenendo in tutti i bacini della regione Emilia Romagna peraltro seguendo un'indicazione che viene dalla regione ma è un'indicazione non può essere certo una coercizione stanno deliberando intervenire con la cifra quando saremo a regime di 10 centesimi a chilometro per abitante per andare a integrare il sistema diciamo del costo del trasporto pubblico locale al fine di garantire in particolare quelle corse meno strategiche che viaggiano con livelli di carico di passeggeri non adeguati per coprire i costi delle corse stesse sostanzialmente credo di averlo già detto con chiarezza la partita che sta sul tavolo è se vogliamo difendere quelle corse che in genere servono le frazioni più piccole i paesi meno popolati quelli che sono su tratte meno strategiche perché magari non sono sulla direttrice tra un grande centro e un altro grande centro e quindi queste sarebbero corse destinate a soppressione oppure se come sta facendo il comune di centro con questa delibera decidiamo di integrare per consentire ai nostri cittadini in questo caso attraverso risorse della fiscalità generale quindi attraverso risorse della nostra intera collettività garantiamo a questi cittadini che non hanno colpa se risiedono in frazioni strategicamente peggio servite garantire loro appunto il trasporto pubblico sottolineo la P di TPL e locale sottolineo anche la L nel senso che credo che sia giusto che anche una frazione un piccolo centro penso alle nostre frazioni meno popolose anche un piccolo centro ha diritto di essere seguito e servito e quindi questo è il senso della delibera non andiamo a integrare il bilancio dell'Ami Ami peraltro ha un bilancio assolutamente in salute noi ne abbiamo una quota di partecipazione residuale ma il Comune di Ferrara che ne è il socio nettamente maggioritario ha avuto proprio recentemente contribuzioni in termini di dividendo piuttosto importanti non è Ami a essere al centro di questa vicenda è un tassello quello che scriviamo oggi che fa parte della politica di trasporto pubblico della Regione Emilia Romagna perché assieme ai Comuni anche la Regione sta dicendo cerchiamo di difendere il livello e lo standard di trasporto che abbiamo e se possiamo di accrescerlo e non di tagliare diciamo quelli che non sono rami secchi ma sono rami che per molte nostre famiglie fanno la differenza tra poter contare su un servizio ed essere abbandonati a loro stessi bene grazie signor Sindaco penso che sia sufficiente andiamo alla votazione chi è favorevole favorevole gruppo PD che è contrario contrario noi che chi si astiene per le frazioni approvato maggioranza immediata esecutività della delibera unanimità stiamo parlando della delibera variazionalità del punto 5 la variazione di bilancio punto numero 6 all'ordine del giorno variazione al bilancio di previsione 2.15 pluriannale 15.17 in relazione previsionale programmatica destinazione avanzo di amministrazione relazione assessore Busi grazie farei il punto 6 il punto 7 perché sono strettamente connesse tra di loro che si riferisce alle variazioni del programma terminale dei lavori pubblici come vedete la variazione la variazione al bilancio di previsione pluriannale relazione previsionale programmatica è proprio un insieme di è tutto sulla parte investimenti sono un insieme di risorse che vengono dall'avanzo di amministrazione cioè con l'avanzo di amministrazione finanziamo tutta una serie di investimenti che riguardano l'adeguamento anticendio campanoni cari mascherati riqualificazione per 170.000 euro riqualificazione energetica piscina comunale per 190.000 euro ristrutturazione ed adeguamento fabbricato giudice di pace per 250.000 euro questi tre capitoli sono quelli che sono poi l'oggetto della variazione del piano delle opere pubbliche che la delibera successiva che appunto chiede di integrare il piano delle opere pubbliche con il capanone cari regorici riqualificazione energetica piscina comunale e l'adeguamento fabbricato giudice di pace poi vi sono altri altri investimenti che sosteniamo relativamente ai lavori di adeguamento della nuova direzione didattica renocentese la messa norma per 42.000 euro la messa norma del capanone della protezione civile per 30.000 euro la messa in sicurezza dei capanoni di via farini per 78.000 euro e contributo ad ami per riqualificazione pensiline per 30.000 euro di questo come anche questo rispetta il patto di stabilità abbiamo anche il parere favorevole del collegio dei revisori grazie anche i migliori sbagliano allora grazie che si veda bene interventi Pareschi capogruppo prego io volevo solo fare una domanda ho letto che i 250.000 euro sono erano previsti nel 2017 per aggiustare il fabbricato ex giudice di pace erano previsti nel 2017 sono stati anticipati per poi portare uffici comunali questo perché c'è ritardo nel sistemare il comune vero e proprio oppure è un'esigenza che è nata adesso altre prego capogruppo Mattarelli la mia è una considerazione di natura bilancistica parlando di avanzo di amministrazione considerato che l'ultimo avanzo di amministrazione noto era 11 milioni di cui 1 milione 300 se mi ricordo liberi qui noi andiamo a spendere il milione 300 liberi quindi chiaro però mi chiedo mi chiedo se questa diciamo così logica di spendere l'avanzo libero che priorità abbiamo dato a questi interventi nel senso che mi ricollego un po' la domanda che ha fatto il collega Pareschi il giudice di pace era previsto lo stabile del giudice di pace era previsto nel 2017 lo anticipiamo al 15 perché abbiamo avuto una necessità per trasferirci gli uffici una parte degli uffici comunali l'intervento della piscina e l'intervento nei carri per del per quanto riguarda i carri i 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 corici è una scelta di carattere politico e quindi che che ha una sua logica nella scelta politica o è una una scelta di carattere prioritario perché abbiamo delle esigenze inderogabili su questi interventi qui ovviamente ecco questa è la natura della domanda fermo restando che la mia posizione rimane di contrarietà perché come sapete il bilancio comunale io lo ritengo per certi per molti aspetti squilibrato e sapete bene che il mio voto è stato contrario a suo tempo per le motivazioni che già espresse sia nella presentazione sia in tutte le varie modifiche di bilancio presentate pur riconoscendo e lo ripeto fino alla noia che gestire un bilancio comunale con un piano un quadro normativo assolutamente mobile incerto e ancora più incerto per il 16 perché il governo nazionale sta presentando una cosiddetta legge di stabilità dai 27 ai 30 miliardi non si capisce bene se di 27 o di 30 con una fonte di finanziamento quasi tutte in deficit o sulla spending review o su altre fonti ancora non chiare per le quali e anche perciò quello che riguarda il bilancio comunale parlo dell'abolizione della tasi per esempio dovrà pur essere compensato in un qualche modo mi rendo conto quindi che fare un bilancio comunale in questi contesti che sono incerti dal 2011 non è comunque così semplice fermo restando fermo restando che il cittadino quello che alla fine paga le tasse dei grandi vantaggi in questi anni non ne ha avuti e ha visto solo ed esclusivamente aumentare la tassazione che è arrivata al 44,7% del PIL che che ne dica il governo Renzi o il governo locale bene risponde il signor sindaco prego si così colgo l'occasione per integrare visto che c'è comunque una variazione del piano delle opere pubbliche in realtà paradossalmente la motivazione dell'anticipo di alcune spese è legata al fatto che resisto alla tentazione di dirla con una battuta perché la battuta sarebbe stata perché stiamo finendo le altre cose ci avanza del tempo e in realtà è che stiamo andando più veloci di quanto avevamo programmato sul piano delle opere pubbliche voi sapete che dall'inizio del mandato l'amministrazione comunale ha sempre avuto la filosofia di non fare dei piani di opere pubbliche io ho sempre usato questa espressione di non fare la lista dei sogni l'elenco delle aspirazioni astratte ma cercare di mettere nel piano delle opere pubbliche opere realmente cantierabili realizzabili questo è enunciato ovviamente da un'opinione di parte ma ha dato dei risultati perché il nostro piano delle opere pubbliche sostanzialmente vede progressivamente svuotarsi ed ecco che allora possiamo portare avanti alcuni altri interventi non c'è una cogenza nella messa in sicurezza e ripristino scusate rifunzionalizzazione del giudice di pace ancorché sia vuoto già da qualche tempo ma ci sembrava sbagliato attendere ancora a quella che è una soluzione molto attesa in particolare dai servizi alla persona che scontano storicamente un problema di carattere logistico piuttosto significativo perché chi è pratico dell'edificio di via Malagodi dell'edificio comunale di via Malagodi sa che quell'edificio male si presta per un'attività che ha le caratteristiche e le esigenze specifiche dei servizi alla persona cioè un edificio dove per entrare in qualunque stanza si transita attraverso l'intero edificio è profondamente permeabile non è possibile separare i vari livelli di ascolto su livelli di riservatezza e di privacy e diciamo di protezione diversa nei differenti piani perché ha questa scala che collega tutto l'edificio ed è attraversato dall'ascensore che diventa l'unico elemento di comunicazione in più quello è un edificio che ha un vulnus strutturale lo dico in senso buono non in senso strutturale con la S grande nel senso di architettonico ed è che ha lo stesso varco per l'accesso pedonale e per l'accesso carrabile quindi è un edificio di difficile gestione per un servizio come il servizio della persona che ha esigenze specifiche di tutela non tanto del personale ancorché anche del personale quanto dell'utenza mal si concilia un edificio dove se io vado dentro a parcheggiare la macchina spalanco il portone e chiunque può entrare a quel punto per le esigenze che dicevo prima distribuirsi sui vari uffici perché collegati dall'ascensore eccetera da tempo questa amministrazione aveva individuato nella palazzina che ha ospitato il giudice di pace una soluzione idonea per quella quota quella liquota di servizi che hanno appunto queste esigenze di gestione degli spazi più strategici abbiamo la capacità di spesa abbiamo le risorse e abbiamo anche e colgo l'occasione per fare all'intera struttura comunale un ringraziamento è un plauso perché ce l'abbiamo per via del fatto che nessuno guarda l'orologio perché se marcassero con rigidità avremmo meno disponibilità di risorse uomo però stiamo riuscendo ad andare avanti con le progettazioni con gli accantieramenti e con le realizzazioni e quindi ci sembra opportuno non rimanere in una situazione non ideale un minuto in più di quanto non sia strettamente necessario sono d'accordo con quanto diceva il capogruppo Mattarelli è sicuramente difficile programmare e me l'avete già sentito dire molte volte per questo motivo questa amministrazione non ha mai fatto non ha mai lesinato nel far ricorso a variazioni di bilancio perché ha sempre cercato di accompagnare le finestre di capacità di spesa e di possibilità di realizzativa con manovre che ci consentissero di reperire le risorse e di mettere in campo i progetti credo che sia un po' ingeneroso dire che il cittadino nulla ha avuto in cambio rispetto al livello di tassazione io non entro nelle dinamiche del governo nazionale però non riesco a non andare a spasso per la nostra città senza vedere dove sono finite le tasse dei centesi e sono finite in strutture che ospitano servizi e in servizi che vengono erogati in maniera non solo efficace ma anche percepita come efficace prima mentre sono uscito per bere un sorso d'acqua prima di accogermi che la brocca era anche qui davanti e questo la dice lunga sul fatto che anche di lunedì si può essere molto stanchi ho preso il folder di Università Aperta 100 ricordo ancora che in questa sala qualcuno aveva preannunciato il fallimento di questo progetto di Università Popolare il tutto esaurito della conferenza di presentazione credo che sia la certificazione del fatto che non solo 100 stia crescendo quanto a quantità di servizi per l'utenza ma anche come l'apprezzamento della cittadinanza stia dando risultati di soddisfazione così colgo l'occasione anche per complimentarmi con l'assessorato competente e con l'assessore che lo guida perché credo che anche ancora una volta il programma dell'Università Aperta sia un esempio significativo di come si stanno creando dei filoni si stanno fidelizzando e si sta riuscendo a dare una risposta sistematica e strutturale a delle esigenze che c'erano anche prima solo che quando si offrono le risposte ecco che vengono più a galla anche le richieste di risposte stesse Assessore proviamo così grazie presidente ma il sindaco ha già esaurientemente spiegato bene insomma il tipo il tipo di intervento che andiamo a fare soprattutto per quanto riguarda il fabbricato giudice di pace ma più complessivamente la manovra voglio sottolineare un aspetto che questi 790.000 euro che sono oggetto di investimento tramite l'avanzo di amministrazione consentono consentono anche come dire di intervenire in modo cospicuo non solo per sistemare tutta una serie di interventi sul territorio ma sono anche credo il frutto ragionato di una corretta programmazione dico questo sottolineando anche un aspetto che probabilmente se fossimo qualche anno fa si potevano utilizzare altre forme di finanziamento noi siamo in una situazione ancora di prolungata fase recessiva anche se dei segnali di ripresa ci sono ma è evidente che noi non possiamo utilizzare ad esempio gli oneri di urbanizzazione perché gli oneri di urbanizzazione che sono entrati sono già stati come dire vanno a finanziare delle altre interventi quindi abbiamo utilizzato l'avanzo di amministrazione un avanzo di amministrazione che è il frutto anche di tutta una serie di riaccertamento di residui cioè sia attivi che passivi che erano delle somme che erano state immobilizzate da tanti anni e che questa amministrazione in qualche modo ha come dire recuperato e messo a disposizione lo sapete che l'avanzo di amministrazione si è fortemente rimpinguato anzi probabilmente c'è stato anche un piccolo errore di valutazione sui 30.000 euro che ci imporrà di ritornare in consiglio comunale dovuto ad un problema informatico adesso anticipo una cosa che poi avremo in consiglio comunale però è evidente che questo ci permette oggi di liberare delle risorse che si erano nel tempo congelate in tanti interventi che non erano mai stati oggetto di pulitura sul bilancio e ci permette di mettere altri 790.000 euro di investimento io sostengo sempre una cosa me l'avete sentito dire tante volte che ogni volta che l'amministrazione mette un euro di investimento ha un effetto moltiplicatore in questo modo questa amministrazione ha avuto anche un ruolo antirecessivo quando avremo i dati alla fine del 2015 potremo accorgerci che abbiamo fatto ingenti investimenti sul nostro territorio non solamente per riqualificarlo riportarlo come dire a vita dopo il terremoto ma anche investimenti di natura strategica io credo che sia questo il modo migliore per dare delle risposte ai cittadini e abbiamo fatto questo non solamente attingendo le tasche dei cittadini ma recuperando risorse noi dalla regione dal nostro bilancio e da tante altre forme di finanziamento che non sono direttamente riconducibili a livello di imposizione comunale grazie capogruppo mattarelli prego prego visto che parliamo sempre di opere del piano triennale delle opere pubbliche do atto ovviamente a quello che ha appena detto l'assessore ma anche a quello che ha detto il sindaco prima non è non è che uno dica tutto quello che è stato scritto non è stato fatto ci sono delle cose si vedono non si può dire è una diversa filosofia di vedere l'impegno pubblico che divide questa parte della minoranza da quella maggioranza mi spiego non è che sia una critica all'operato esclusivamente perché voi siete al governo io sono l'opposizione oppure noi siamo l'opposizione ho sempre tentato di non avere una posizione ideologica perché è quello che oggi la gente credo che un po' ci chiede ma soprattutto come il sindaco ha poco fa parlato siamo in anticipo sul programma delle opere triennale allora io mi sono preso fuori un'interrogazione che ho fatto il 12-2 del 2013 in merito al programma triennale dei lavori pubblici e quella la rilego perché sono sei righe ma ripeto non voglio far polemiche non è il momento non mi interessa però insomma giusto per una questione di chiarezza e forse casomai io mi sbaglio non lo so con la delibera numero 13 del 2013 la giunta aveva approvato il programma triennale dei lavori di opere pubbliche per un importo di 23 milioni 212 mila 200 euro di cui solo 300 mila finanziati con debito giustamente voi non avete aumentato il debito pubblico della città perché i mutui non sono stati fatti dei mutui nuovi primo perché abbiamo dei parametri ristretti secondo perché per scelta non l'avete fatto utilizzando altre fonti di sì possiamo fare un milione qualche cosa circa va bene nell'ambito di un programma di opere pubbliche un'opera pubblica normalmente si parla di svariati milioni però fermo restando quello che insomma non posso solo darvi dei pareri positivi ok cioè quindi bisogna che bisogna che io anche arrivi a dire delle cose a dire delle cose no i miei pareri positivi su di voi sono relative a determinati tipi di gestione e l'ho sempre detto il signor sindaco lo sa e anche per aspetti politici ho anche recentemente sostenuto la posizione del sindaco ma per fortuna o eravamo in un gruppo ristretto non lo voglio rendere pubblico perché non non mi sembra che ne valga la pena però per i 23 milioni e due che voi avete messo nella 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 allora prevedevano e non voglio entrare nel dettaglio 10 milioni e 9 per la sistemazione degli immobili comunali che erano palazzo del municipio entro il terzo anno 2015 2 milioni e 9 palazzo del governatore entro il primo anno 2013 ci arriviamo effettivamente con un paio d'anni di ritardo ma ci siamo Castello della Rocca ci siamo già da un po' ma erano solo 500 mila euro costruito nel 300 ho tenuto botta quindi evidentemente aveva bisogno di meno Teatro Borgatti entro il terzo anno 2015 non ci siamo perché andiamo a cena per fare il recupero dei fondi e Civica Penacoteca terzo anno 2015 3 milioni e 4 ovviamente non ci siamo ecco queste importanti opere che ovviamente dipendono anche dai contributi del terremoto solo anche non solo va bene non si vedono non ci sono e quindi il rapporto con la regione o col commissario delegato che è quello che fa da tramite per il governo per avere questi contributi evidentemente è stato meno proficuo del lavoro svolto per esempio sempre col commissario delegato per altri tipi di fondi arrivati dalla procedura chiamiamola terremoto ecco probabilmente io ripeto che vivo all'esterno dell'amministrazione non posso sapere tutto e quindi casomai qualche volta faccio qualche anche imperfezione o dico delle cose che evidentemente non conosco perfettamente fermo restando che quelle opere lì erano previste per quegli anni lì e ancora non ci sono ovviamente io adesso colgo l'occasione per dire mi fa piacere che torniamo in un immobile nostro della città a palazzo del governatore e finalmente inauguriamo il terzo piano che non era mai stato inaugurato e perciò andiamo su in mansarda a fare il consiglio comunale speriamo che l'altitudine ci faccia ragionare meglio e abbandoniamo questo palazzo che io ritenevo invece immorale comprare come voi sapete per fortuna adesso per il momento sembra che non lo compriamo chiuso ecco la sprecisazione era solo questa ho fatto due minuti non voglio fare altre interventi né introdurre polemiche ecco non è il caso un minuto il signor sindaco prego no solo un minuto perché non vorrei che si ingenerasse ulteriore confusione il capogruppo mattarelli non può mischiare il piano delle opere io sono stato attento a utilizzare le parole in maniera corretta poi con la premessa che ha fatto alla fine di dire è la realtà ha fatto alla fine la premessa è possibile che io le cose non le sappia bene e quindi dica alcune cose imprecise è chiaro che non voglio intervenire per rimarcare le imprecisioni capisco che sedendo ai banchi dell'opposizione si può fraintendere molto le rinnovo la mia disponibilità tutte le volte che ha dubbi o voglia di capire meglio per approfondire insomma voglio dire ci mancherebbe io ho parlato del piano delle opere pubbliche e non ho mai parlato del piano delle opere pubbliche della ricostruzione che come il capogruppo mattarelli sa perfettamente tutto il consiglio sa per averlo approvato già alcune volte sono sempre viaggiati paralleli allora un conto è la quantificazione delle risorse ed era quello lo scopo del piano da lei citato e mi viene da dire tra poco vi accorgerete che meno male che è stata gestita così nel senso che sono state quantificate le risorse perché poi adesso che il piano delle opere della ricostruzione non viaggia più parallelo perché è modificata la norma e quindi da adesso in poi dovremo fare un piano delle opere pubbliche unico vi accorgerete presto se non avete già notato questo aspetto che quelle opere di allora proprio perché quantificate in maniera corretta possono entrare nel nostro piano delle opere pubbliche a questo punto unico per il 2017 2018 è evidente che l'imprecisione più grave è dire che il recupero del teatro piuttosto che il recupero della pinacoteca dipende anche dai contributi alla ricostruzione dipende solo dai contributi alla ricostruzione nel senso che il comune di Cento non avrebbe le risorse necessarie e anche qualora le avesse non credo farebbe l'interesse dei centesi a utilizzare le risorse interne in luogo di risorse statali deputate alla ricostruzione vorrebbe dire per capirci smettere di riscaldare gli asili piuttosto che smettere di accendere la pubblica illuminazione per fare una spesa che altri sempre con soldi nostri in quota parte però soldi statali ci renderebbero possibili non è sfuggito a nessuno perché i giornali ne hanno parlato tanto del fatto che il secondo piano delle opere della ricostruzione non è ancora uscito dalla struttura commissariale quindi non è che il comune di Cento sia indietro rispetto al secondo piano semplicemente il secondo piano delle opere pubbliche non esiste ed è un piano che per scelta strategica prevede in gran parte quegli edifici pubblici non strategici come il teatro come la pinacoteca eccetera il nostro comune a differenza di altri pochissimi per la verità comuni ha scontato semmai il fatto di aver avuto un risarcimento assicurativo piuttosto modesto per capirci noi abbiamo incassato dall'assicurazione guardo l'assessore per una conferma qualcosa come 2 milioni 2,6 mi sembra di ricordare il solo comune di Ferrara credo ne abbia incassati 22 a fronte di danni non paragonabili ma nel senso che delle due i nostri sono danni superiori è evidente che si può essere meglio o peggio assicurati o aver fatto scelte in tempi non sospetti sulle quali non ho mai polemizzato di tenere diciamo la componente danni da rischio sismico molto bassa come premio a fronte di una prospettiva di denizzo molto basso altri hanno fatto queste scelte noi le abbiamo semplicemente ereditate e fatte nostre credo che qualunque amministratore buon padre di famiglia avrebbe fatto così posto che dall'asilo in poi ci hanno sempre spiegato che il nostro non era un territorio elevato rischio sismico è evidente che l'unica differenza l'unico gap tra il nostro comune e altri comuni che all'apparenza sugli edifici pubblici non strategici possono essere più avanti è proprio legato a fonti di finanziamento diversi da quelli della ricostruzione nessun altro ha incassato un euro per un teatro diciamo dalla ricostruzione pubblica almeno a meno che non avesse solo quello come edificio insomma nel senso che tutti hanno dato come priorità gli altri edifici colgo l'occasione per dire che il nostro municipio vede l'iter procedere c'è proprio recentemente in conferenza dei servizi è stato un profondo apprezzamento sul progetto di recupero redatto è un intervento l'ho già detto tante volte molto complicato perché si tratta di contemperare l'esigenza del miglioramento sismico in quanto edificio strategico perché peraltro sede di COC e di governo e quindi edificio diciamo strategico per eccellenza con l'altra esigenza ugualmente imprescindibile di tutela per un edificio molto fragile molto bello molto storico con una variante una variabile da nulla legata al fatto che per alcune parti della propria struttura appoggia sul bordo del canale che passa sotto corso guercino quindi una struttura oggettivamente complessa e delicata esiste un progetto quindi i fondi sono quelli si stanno già nel primo piano delle opere pubbliche della ricostruzione e una parte di intervento è già stato fatto lo dicevo anche prima con la riapertura del palazzo del governatore la piazza verrà liberata dai cantieri e per realizzare l'intervento del municipio non saranno necessari altri cantieri perché la prima parte di intervento ha già messo in sicurezza tutta la parte esterna quindi salvo piccoli ponteggi temporanei per eventuali attività proprio di ripresa non so se c'è da tinteggiare qualcosa è chiaro che bisognerà arrivarci ma non saranno più necessari lunghi e invasivi ponteggi esterni quindi io credo che in realtà sia stato fatto tanto e sono certo che tutti si renderanno conto a cominciare a capogruppo Mattarelli e gli do atto che quando di una cosa si rende davvero conto poi la testimonia che questo scorcio di 2015 e la prima parte del 2016 vedranno un'accelerazione forte perché guarda il capogruppo Pareschi che per mestiere si occupa di queste cose molto spesso l'interburocratico occupa più tempo dell'attività di cantiere vera e propria e quindi a questo punto di vista ci sarà una percezione di accelerazione che in realtà è frutto di un lavoro quotidiano che da tre anni e qualcosa impegna l'amministrazione e tutta la struttura bene non ci sono altri interventi anche perché per il teatro abbiamo avuto dei fondi anche privati del terreno bene mettiamo in votazione il punto numero 6 l'ordine del giorno variazione bilancio di previsione 2015 pluriennale 15 e 17 relazione previsionale programmatica destinazione avanzo di amministrazione che è favorevole gruppo PD chi è contrario chi ci astiene tenuto gruppo noi che e per le frazioni approvato a maggioranza immediata esecutività della delibera unanimità mettiamo in votazione anche la delibera numero 7 delibera del consiglio comunale 13 del 2015 ad oggetto programma triennale dei lavori pubblici 2 e 16 e 2 e 17 delenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2015 approvazione e successive modifiche modifica ed integrazione che è favorevole gruppo PD che è contrario a nessuno che si astiene assenuto il gruppo noi che e per le frazioni come prima approvato a maggioranza immediata esecutività della delibera unanimità punto punto numero 8 all'ordine del giorno variazione al bilancio di previsione 2 e 15 e pluriannale 15 e 17 relazione previsionale programmatica quinto settore comunale servizio gestione associata dei servizi socio assistenziali relazione all'assessore competente sempre l'assessore Busi che ormai diamo il premio per la produttività prego grazie presidente è chiaro che io da un punto di vista come dire di assessore al bilancio illustro la variazione al bilancio di previsione ma come è successo anche con il sindaco nonché assessore eventuali chiarimenti possono essere rivolti all'assessore competente in sostanza ci troviamo di fronte ad una variazione del bilancio di previsione che non è altro che un assestamento delle risorse cosiddette GAFSA cioè i servizi sociali associati questo per senza oneri aggiuntivi ma modificando gli stanziamenti nei capitoli di entrata e di spesa come potete immaginare non vi sono variazioni per quanto riguarda gli investimenti ma solo la parte corrente l'insieme delle variazioni ammonta a 43.712 euro in entrata e 43.712 euro in spesa quindi anche qui potete vedere vi sono tutte le varie i vari capitoli di spesa non ve li sto a elencare se avete chiarimenti da fare io o l'assessore competente può dare una risposta grazie assessore interventi capogruppo mattarelli prego è un intervento solo ed esclusivamente di natura politica filosofica ovviamente come dice l'assessore è una variazione di bilancio bilancio che è relativo ai servizi gestione associata dei servizi socioassistenziali servizi che se non ricordo male nel nostro bilancio occupano mi pare i servizi cosiddetti sociali occupano mi pare una cifra intorno ai 17-18 milioni di euro complessivamente faccio notare al consesso e ai nostri cittadini che credo quel cittadino che è rimasto collegato online che questi servizi sono permanentemente in deficit perché pur tenendo conto della variazione di 43 mila euro la la parte di entrata arriva con questa variazione a 1 milione 233 per questa parte dei servizi non tutti i servizi sociali e la parte uscita arriva a 2 milioni e 177 mila euro ora io in un mondo teorico bellissimo come quello descritto dal recentissimo premio Nobel August Deaton che ha inventato il modello AIDS che non è quello che riteniamo tutti ma è Alternative Ideal Demand System gli ha dato il premio Nobel in economia proprio perché è un inglese è il primo inglese dopo tanti americani che vince il premio Nobel per il 15 in economia perché ha inventato questo modello applicato alla gestione dei bilanci pubblici sembra adesso io probabilmente non sono specifico scientifico come come il Nobel ovviamente sembra che imputi agli errori di fondo fatti alla politica economica quella di potersi sostituire alla domanda individuale del cosiddetto individuo per creargli la funzione di utilità che è quella che normalmente è di base nella funzione di domanda individuale ora traducendolo in parole molto più semplici al nostro territorio dobbiamo sempre renderci conto che dalla fiscalità generale per i servizi cosiddetti sociali quelli a domanda individuale la copertura di questi servizi è al 30% massimo ovvero sia la gente paga dei canoni delle domande delle rette di mensa delle rette di trasporto scolastico delle rette di asili che coprono al massimo il 30% dei costi il restante 70% è a carico della collettività generale bisogna sempre ricordarsi questo aspetto il che non vuol dire che sia giusto o sbagliato vuol dire che quando prima o poi arriveremo alla necessità di mettere di fronte ai cittadini quelli che pagano il 30% che sono già costi per le famiglie in alcuni casi anche insostenibili e al 70% di copertura con la fiscalità generale dovremmo arrivare a questo punto a fare prima o poi a fare una chiarezza che forse i cittadini non sanno che forse i cittadini non valutano approfonditamente questa è la riflessione politica che volevo fare fermo restando che per questa voce di bilancio io dovrò mantenere la posizione che ho già sostenuto per il bilancio 2015 bene gli interventi non ci sono mettiamo in votazione il punto 8 all'ora del giorno variazione bilancio e previsione 2015 pluriennale quindi 17 relazione previsionale programmatica quinto settore comunale servizio gestione associata dei servizi socio assistenziali chi è favorevole favorevole gruppo PD che è contrario contrario noi che chi si astiene per le frazioni approvato a maggioranza immediata esecutività della delibera unanimità punto numero 9 progetto esecutivo del consorzio di bonifica pianura di ferrara per i lavori di ripristino tratti dall'alveo in dissetto dei canali del vaccino del canale di cento in comune di cento scolo guador atto d'intesa ex articolo di 16 bis legge regionale 37 2002 relaziona sindaco come assessore competente prego signor sindaco sì direi che è uno dei non infrequenti casi in consiglio comunale in cui la lunghezza dell'oggetto aiuta molto la relazione dell'assessore competente fatemi semplicemente dire che è un altro dei tanti temi annosi che arriva definitivamente in porto io ero ancora un ragazzo e già si parlava dei problemi dello scolo guadora dell'esigenza di porre fine a quella fase diciamo di caratterizzazione dello stesso è la classica delibera che ha trotterellato per molti piani delle opere pubbliche per decenni cioè slittando di annualità in annualità senza arrivare a conclusione in questo caso così come tra poco tra qualche forse già nel prossimo consiglio comunale potrete apprendere per altri importanti temi legati al percepito e a volte anche reale il rischio di inquinamento nel nostro territorio anche in questo caso dicevo si arriva ad ama con un risultato importante questo è un atto di intesa tra consorzio e comune direi che la delibera è abbastanza chiara ed è corredata da legati che la esplicano in maniera ancora più puntuale quello che è l'elemento più sintetico e brutale scusate la brutalità della sintesi è che finalmente potranno partire i lavori e quel tratto non sarà più il tema ricorrente dei piani delle opere pubbliche del comune di Cento ma sarà recuperato e rifunzionalizzato e rimesso nelle condizioni in cui era diciamo fino agli anni 80 perché poi dalla fine degli anni 80 in poi di Guadora si è parlato sempre come se fosse un problema tornerà a essere semplicemente uno scolo e un canale bene grazie signor sindaco interventi non ce ne sono mettiamo in votazione il punto 9 l'ore del giorno progetto esecutivo consorzi bonifiche di pianura di Ferrara per i lavori di ripristino tratti d'alveo in dissesto dei canali del bacino del canale di Cento in comune di Cento scolo Guadora atto d'intesa ex articolo 16 bis legge regionale 37 2012 chi è favorevole unanimità immediata esecutività della delibera unanimità punto 10 all'ore del giorno realizzazione di un edificio ad uso deposito ubicato nell'area di pertinenza della bocciofida comunale 7 in viugobassi 100 viugobassi 100 a 100 è la perfezione nulla osta ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 15 213 per il rilascio del permesso di costruire in deroga relazione all'assessore competente signor sindaco la tosse stagionale oggi mi infastidisce particolarmente è una gran bella delibera a cui personalmente sono piuttosto affezionato per una serie di motivi tecnicamente noi oggi concediamo semplicemente un permesso di costruire in deroga perché andiamo a derogare cosa che come abbiamo già fatto altre volte è prerogativa di questa assemblea alla distanza dal confine stradale quindi in teoria diciamo è una delibera dal carattere strettamente urbanistico e se vogliamo anche abbastanza modesto come portata nel senso che andiamo a derogare di qualche metro un confine di rispetto stradale peraltro già oggi non rispettato da alcune superfettazioni già esistenti in realtà invece è una delibera che io trovo particolarmente importante per due motivi la prima perché non è la prima volta che gli effetti della nuova concezione introdotta da questa amministrazione nello schema di convenzioni per la gestione delle strutture sportive nel nostro comune produce effetti di miglioramento e apprezzamento del bene e quindi anche dei risultati per l'utenza cosa voglio dire non tanto tempo fa una decina di giorni fa forse il sabato scorso assieme al presidente Amelio ho inaugurato il campo da cancetto sintetico del complesso sportivo del parco del Reno anche in quel caso il meccanismo era il medesimo prima ancora lo abbiamo visto sul palazzezzo dello sport rimesso in piena efficienza per tutta la parte esterna dalla Benedetto XIV in un'altra occasione l'abbiamo visto fare da altre società sostanzialmente quello che accade è che l'amministrazione comunale ha ideato una formula di partnership di collaborazione con l'associazionismo in particolare quello sportivo non dimentichiamo che la bocciofila è una struttura sportiva e si pratica lo sport delle bocce anche se ha un'evidente funzione anche associativa e aggregativa una formula che sigla una sorta di patto che poi si traduce in una convenzione vera e propria tra l'ente locale e l'associazione che gestisce l'impianto il comune irrobustisce l'aspetto patrimoniale finanziario della convenzione la prolunga nel tempo quanto ha durata e consente all'associazione di realizzare investimenti sulla struttura per la miglioria della struttura stessa migliorie che poi diventano patrimonio pubblico sia in termini di proprietà perché diventano proprietà dell'ente sia in termini di fruizione perché diventano fruibili dall'intera città come è stato per il palazzetto dello sport oggi basta passare davanti per vedere che non assomiglia nemmeno a quello così segnato dagli anni fino a qualche mese or sono basta passare al parco del Reno per vedere un nuovo campetto in sintetico di calcio che ha preso il posto dei resti di quello che era stato un bel campetto all'epoca non fatto con la tecnologia attuale negli anni 80 e 90 e in questo caso viene realizzata una struttura che consente una miglioria della realtà bocciofila di cui il comune acquisirà la proprietà e viene fatto per intervento diretto dell'associazione che gestisce la bocciofila stessa il secondo motivo che mi rende particolarmente lieto di questa delibera è che la nuova struttura sostituirà attuali superfettazioni attuali baracche strutture assolutamente improprie brutte da vedere ma soprattutto caratterizzate pesantemente dalla presenza di Ethernet quindi è anche un passaggio nella lotta che questa amministrazione comunale ha dichiarato all'Ethernet siamo oramai davvero a un passo dall'eliminazione completa dell'Ethernet sul 100% delle strutture di proprietà pubblica io lo dico perché lo penso in 5 anni scarsi con un terremoto in mezzo abbiamo recuperato un ritardo anche su quel fronte che era assoluto nel senso che non avevamo rimosso mai un metro quadro di Ethernet oppure l'avevamo fatto in maniera del tutto episodica nella storia di questo comune anche con un ordine del giorno proprio in questo consiglio comunale ci siamo dati degli obiettivi programmatici forti e sarà un caso però anche questi obiettivi li stiamo centrando in maniera compiuta ed efficace guardo lei perché a volte non le viene in mente di ricordarlo però prima un po' l'ha detto quindi diciamo che è particolarmente bello secondo me perché mettiamo in rete il privato riusciamo a dialogare con l'associazionismo valorizziamo un bene riduciamo la presenza di Ethernet sulla proprietà pubblica oramai lo dicevo è quasi residuale e diamo alla struttura anche un aspetto molto più gradevole oltre che più efficace e più funzionale quindi al di là cioè dietro una semplice deroga a distanze c'è un mondo c'è un ragionamento e c'è soprattutto io almeno la vedo così però voglio dire è normale che sia così essendo parte della squadra che questo percorso sta costruendo di giorno in giorno c'è un'idea di rapporto tra l'ente pubblico e il nostro tessuto vitale che è l'associazionismo fatto di collaborazione di sussidiarietà e non di contrapposizione ricordo ancora con un po' di rammarico i tempi in cui si mettevano i lucchetti agli impianti pubblici nel nostro territorio comunale perché uno era indietro di una rata d'affitto non stava pagando con regolarità le bollette della luce e quello era il modello di centro-destra il nostro è un modello fatto per la concorde valorizzazione degli impianti a beneficio dei fruitori e dei centesi tutti grazie signor sindaco ci sono interventi mettiamo in votazione punto 10 prego prego il signor sindaco dice c'era delle regolarità era il modello del centro-destra e poi guarda me ebbene lei del centro-destra non è centro-destra ho capito specifico e ritorno a specificare e a registrare il sottoscritto pur appartenendo idealmente ad una coalizione di centro-destra sia alle precedenti amministrative del 2011 quando lei è stato eletto sindaco sia in passato perché ho sempre fatto parte del PDL di Forza Italia e di quello che erano una volta i liberali che non ci sono più non ha mai governato un minuto questa città quindi lei può dire quello che vuole in merito al centro-destra lei è consentito come direbbe come direbbe vero il giudice ma io non ho mai governato la città né ho contribuito a governarla perché pur avendo ispirato diversi movimenti politici che hanno sì civici e politici che hanno sì governato la città io non ho mai messo un giorno un dito in una delibera di giunta ovviamente tanto meno di consiglio comunale perché anche quella è un'esperienza che ho sempre lasciato fare ad altri perciò lei può dire ciò che vuole il centro-destra ha governato in un modo il centro-sinistra adesso sta facendolo dal 2011 in poi ci sono delle cose fatte in un certo modo cose fatte bene altre fatte a mio avviso un po' meno bene però non può dire che il centro-destra ha una logica di governo che è solo sbagliata perché questo non è così non può essere così fermo restando che su questa delibera mi trovo d'accordo con quello che è la sua visione del rapporto con le associazioni eccetera un po' meno un po' meno d'accordo mi trovo sulla come posso dire l'enfasi posta sull'inaugurazione del campetto con la sponsorizzazione che sappiamo bene essere di una banca e questo a me lascia sempre un attimo perplessi perché la banca non è un ente di beneficenza la fondazione sì quindi è diversa lo sponsor appunto ha un progetto commerciale che a volte si realizza a volte no quindi quello è un'altra cosa ma rimanendo sul tema del fabbricato in deroga che adesso andiamo ad approvare pur essendo una cosa un progetto condivisibile avrà il mio voto di astensione perché è approvato in deroga delle norme che sono definite e ovviamente proprio perché è una cosa pubblica ha bisogno della diciamo così dell'approvazione del consiglio comunale ed essendo una come posso dire una minima parte di rischio di giuridico formale su questa delibera c'è e quindi c'è e quindi io ve la lascio a voi pur con pur con no c'è non c'è però se mi piace dirlo ce lo dica se ci sono dei rischi ci sono dei rischi quando uno amministra ci sono dei rischi però fermo restando che comunque io diciamo dal punto di vista filosofico di base la posso anche la posso anche condividere bene grazie capogruppo Mattarelli vabbè abbiamo ah prego Pareschi capogruppo un minuto solo geometra in grado di chiarire bene questi rischi che abbiamo non ho capito neanche io volevo dire che probabilmente i rischi a cui si riferiva il collega Mattarelli sono riferiti al fatto che la deroga è da un confine di proprietà non da un confine stradale mi pare di aver visto il progetto ed è da un confine di proprietà e quindi sono quelli i rischi eventuali contenziosi sarà stato valutato la cosa tecnicamente dagli uffici competenti io sono favorevole diciamo a questa delibera comunque voterò favorevole bene grazie capogruppo Pareschi la precisazione le ha già chiarite geometra capogruppo Pareschi quindi mettiamo in votazione il punto 10 l'ora del giorno realizzazione di un edificio ad uso deposito ubicato nell'area di pertinenza della bocciofila comunale sita in viugo bassi 100 a 100 nulla osta in cese l'articolo 20 della legge regionale 15 2013 per il rilascio del permesso di costruire in deroga chi è favorevole favorevole gruppo PD per le frazioni chi si astiene astenuto noi che contrario nessuno immediata esecutività della delibera unanimità punto 11 l'ora del giorno convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge 18 8 2000 numero 267 per l'esercizio in forma associata del servizio in distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale minimo di Ferrara per il primo periodo di affidamento con gara approvazione relazione signor sindaco prego sì in questo caso è una delibera squisitamente tecnica che pone il primo passo formale verso la cosiddetta gara d'ambito per l'affidamento della gestione delle reti del gas brevissima premessa di carattere cioè di inquadramento è fatto obbligo ai sensi di una legge nazionale di gestire gli affidamenti della gestione delle reti gas in un ambito territoriale minimo che nel nostro caso corrisponde all'ambito territoriale dell'area che corrisponde all'attuale quasi ex provincia questa gara avverrà nei tempi tecnici non faccio volutamente una previsione sui tempi di gara perché ad oggi c'è un ritardo medio stimato in tutte le altre gare caratterizzate di almeno 18 mesi ad oggi questa rivoluzione nel sistema degli affidamenti diciamo in ambito sta scontando la voglio vedere in positivo gli effetti del debutto quindi stanno facendo fatica tutti ad arrivare con le gare il legislatore nazionale aveva calendarizzato i vari ambiti in maniera da non creare delle sovrapposizioni troppo pesanti dal punto di vista diciamo economico per garantire ai player ai gestori di questo ambito di poter partecipare a più gare e non essere soffocati diciamo dal livello di garanzie e di esborso necessario in caso di partecipazione a più a più gare in realtà questa calendarizzazione graduale sta un pochino faticando perché nessun ambito è in tabella di marcia noi oggi compiamo il primo atto che è quello di aderire con convenzione quindi sostanzialmente si sta autorizzando l'ente locale a sottoscrivere la convenzione stessa aderire quindi a una convenzione che vede il comune di Ferrara come comune capofila e questo è scritto nella legge nazionale che individua il capoluogo di provincia come capofila naturale per la gestione del percorso che porterà alla promulgazione del bando e quindi alle attività poi di aggiudicazione della gara stessa a differenza di altri enti locali il comune di Cento ha compiuto una scelta leggermente personale ma l'hanno fatto anche altri che è quello di non avvalerci delle professionalità del comune di Ferrara per la stima del valore delle reti ma di farla autonomamente questo per noi è legato al fatto che avendo recentemente questo consiglio è stato coinvolto anche su questo proceduto diciamo al consolidamento del patrimonio reti ad esempio riconoscendo alcuni investimenti fatti fuori dal territorio comunale siamo già in possesso di una stima della rete abbastanza dettagliata e precisa e la nostra multiutilità è in grado anche pur nel rispetto della diversità dei ruoli di supportarci in una parte di questo percorso questo non comporta oneri per l'ente perché le attività di stima e di validazione e di valutazione del patrimonio reti da conferire saranno comunque coperte dalla procedura sostanzialmente si poteva scegliere se farlo fare al comune di Ferrara che introditava il 100% dei rimborsi per stime e perizi oppure fare una parte di attività in autonomia e partecipare poi alla restante parte in regime di convenzione abbiamo fatto questa seconda scelta e quindi saremo ritornati dei costi che sosterremo perché abbiamo fatto credo di averlo spiegato l'ultimo passaggio su cui voglio rubarvi ancora pochissimi secondi è legato al clima perché credo che da amministratori siate tutti interessati all'approccio climatico in termini politici e amministrativi con cui si sta andando a questa gara devo dire che il comune di Ferrara sta gestendo molto bene in questa prima fase il proprio ruolo di capofila vedo anche in sale l'amministratore unico di ATR che ha partecipato nella sua veste a una serie di incontri colgo l'occasione per ringraziarlo dicevo il comune di Ferrara sta gestendo molto bene non sta comprimendo in alcun modo la partecipazione dei comuni della provincia anzi sta con una serie di tavoli anche con il supporto di quella divisione di Anci che si occupa in maniera specifica delle gare d'ambito fornendo informazioni e supporto per diciamo deliberare in maniera ragionata consapevole quindi credo che fino qui stiamo compiendo atti puramente di carattere tecnico so che la commissione ha già iniziato la commissione consigliare ha già iniziato a lavorare sul progetto vero e proprio perché credo che quella invece la sfida che io pronostico ma qui siamo nella logica dei pronostici per almeno per il 2019 c'è quello del bando vero e proprio anche se da cronoprogramma ufficiale dovrebbe essere un pochino prima sia una una sfida importante che noi riusciremo a centrare senza avere ripercussioni negative per la società del gruppo CMV che oggi si occupa di gestione perché con altre operazioni peraltro di cui già questo consiglio comunale si è occupato abbiamo iniziato siamo già molto avanti a un percorso di riforma del gruppo CMV che tiene conto anche dell'avvicinarsi della scadenza per la gara d'ambito per la gestione del RTL gas quindi la sensazione che vorrei trasferirvi è che esiste un progetto di visione complessiva che questo è condiviso a livello dei comuni soci di CMV e che fa parte a sua volta di uno schema più vasto che è stato redatto a un tavolo dove siedono tutti i comuni della provincia dove Ferrara siede al posto di capotavola e sta dimostrandosi un buon gestore del tavolo grazie signor sindaco bene siamo arrivati alla fine quindi mettiamo in votazione anche questa non c'è un intervento anche questa convenzione in senso dell'articolo 30 decreto legge 188 2000 numero 267 per l'esercizio di forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale e nell'ambito territoriale minimo di Ferrara per il primo periodo di affidamento con gara approvazione favorevole favorevole gruppo PD che contrario che si stiene astenuto gruppo noi che per le frazioni approvato a maggioranza immediata esecutività della delibera unanimità peccato che il consigliere Magagna sia assente io comunque leggo l'ultimo punto loro nel giorno quindi interrogazione interpellanza se ce ne sono non ce ne sono quindi gentile pubblico ah beh allora Matterelli no mi sembrava no sembrava titubante no 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 non c'è ricordo al sito che è ancora pendente stampa che non sia le risposte in questi giorni alcune interrogazioni iscritte al sito bene bene ravviviamo la memoria quindi gentile pubblico signori consiglieri signori assessori signor sindaco il consiglio è terminato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti